e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi sono qui per continuare il titanic la costruzione del titanic questo è il fascicolo numero 4 come potete vedere titanic la nave la leggenda ecco fascicolo numero 4 andiamo a continuare il la parte diciamo questa qua della seconda uscita del titanic ora andiamo a vedere un po come questo fascicolo lo andiamo ad aprire e vediamo un po come ok ragazzi ecco qua che ho aperto qui c'è il glister con tutti quest'altri quest'altra parte titanic e ora andiamo a vedere un po il fascicolo numero 4 di cosa parla lo andiamo ad aprire titanic numero 48 febbraio esce martedì pubblicazione periodica 14 anni nel prossimo numero abbiamo la sezione proteggliera di testa dello scafo albero motore asta eccentrico asta valvola e connettore abbiamo queste queste qui nel prossimo numero servizio ambonamenti servizio clienti per non perdere nemmeno uscita realizzazione titanic ok e andiamo a vedere giganti dei mari in una splendida notte stellata un tragico naufragio quarta parte qui ci fa vedere un po il tutto qui alcune foto dell'iceberg che affondo al titanic eccola qua qui ci racconta un po la storia andiamo avanti giganti dei mari la per te vabbè questo qua un piccolo poster qui una illustrazione si continua con la storia le sciaruppe di salvataggio omaggiata a new york a tempi nell'operazione di salvataggio il naufragio il titanic andiamo avanti con l'illustrazione una montagna d'acciaio il titanic seconda parte qui ci va a vedere dove è stata costruita belfast infatti ecco qua una piccola fotografia del titanic ancora in costruzione a belfast fantastico un ancora titanica il titanic che prende a partire dai fumaioli escono i fumi delle caldaie ecco qua una bella fotografia dell'epoca il telegrafo senza fili e qui ci fai vedere gli elementi di sinistra dello scafo sezione della carena sezione 2 dello scafo connettore vita m 8 più 1 qui ci fa vedere come fare l'aggiunzione con gli altri con la seconda numero ora andiamo a costruirlo e ci vediamo tra poco ok adesso siamo qui andiamo a montare questa parte qui andiamo a mettere con questi due perni attaccati a questa parte con le viti ora lo faccio e ci vediamo tra poco ed ecco qua ragazzi che sta prendendo forma questa parte qui lo ha attaccata l'ho aggiunta come potete vedere si sta iniziando ad allungare questa parte qui e continuiamo adesso a montare la parte nera andiamo a vedere un po come funziona e ci vediamo tra poco ok ragazzi adesso andiamo a montare questa parte qui dello dello scafo e la dobbiamo mettere in questo modo così 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 in modo tale da fare questa parte qui ora gli vado a mettere le viti e ci vediamo tra un po ok ragazzi ecco qua che sta continuando il titanic sta crescendo e ora andiamo a vedere cosa ci è rimasto da montare nella pagina successiva ovvero dobbiamo mettere questa aggiunzione e qui per continuare poi a continuare per la parte della costruzione e possiamo mettere anche la targa con il nome titanic che abbiamo conservato qui e procediamo ok per la congiunzione dobbiamo mettere questo secondo perno qui che va a a premere questi quattro uno due tre e quattro perni andiamo a congiungere e mettiamo le viti ok ecco qui col risultato che abbiamo montato per ora con la quarta uscita eccolo qua adesso ci vado a mettere la targa con il nuovo titanic qui e come potete vedere sta prendendo forma il tutto in alluminio molto ben fatto e andiamo mettere la targa ok ecco qui la targa che adesso andiamo a posizionare qui qui sopra e ci vediamo tra poco ok ragazzi ecco qua anche la quarta uscita montata il tutto questo è quello che sta prendendo forma con la quarta uscita e devo dire che sarà una nave spettacolare anche a vederla questa è la targa fantastica qui ci sarà la aggiunzione col prossimo numero per continuare il tutto e niente noi ci vediamo nel prossimo numero con costruisci il titanic mettete viaggio commentate iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao a tutti belli ciao a tutti ciao a tutti